Musica Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto Musica Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG Andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda giovedì 27 settembre Situazione che vedrà la nostra regione sotto cieli poco parzialmente nuvolosi per tutto l'arco della giornata Nel contempo, nel corso della giornata avremo un cambio della ventilazione che da nord orientale diverrà a nord occidentale Quindi avremo temperature in leggero rialzo sia per quanto riguarda le temperature minime che per quanto riguarda le temperature massime Temperature che si porteranno in media del periodo con le minime che saranno attestate fra i 12 e i 14 gradi Mentre le temperature massime si attesteranno fra i 22 e i 25 gradi Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!